Abbiamo sentito oggi pomeriggio una serie di aspetti che sono sia l'aspetto strettamente di professioniste, di studiosi, di chi si muove nell'ambito del cantiere, di chi cerca anche di riportare, ma più che riportare, di dare quei valori e quel riconoscimento della figura femminile. Da questo punto di vista credo che il lavoro per le donne sia appena iniziato, le giovani ragazze hanno già una visione più aperta, il termine differenziazione architetto-architetta non è un simbolo, ma è già una scelta quando si entra nel mondo della professione e ci si iscrive all'albo professionale. Ma da un punto di vista più strettamente progettuale di architetti, io credo che le sfide siano sempre quelle di leggere la città, di capire la comunità, di ascoltare, ascoltare per capire quali sono i bisogni, ridefinire le nuove relazioni, fare riuscire da grandi parti di città scartate dalla loro condizione di oblio e in qualche modo ricostruire tutto, come dire, riprendere, riordinare tutto il tessuto così frammentato che appartiene alla gran parte delle nostre città. Quindi lavorare progettualmente sulle strategie che possano mettere in atto soluzioni in queste tematiche, raccogliendo anche tutte le sfide ambientali che oggi siamo anche chiamati a risolvere. L'università credo che sia un contesto, soprattutto nel momento dell'ingresso all'università, da questo punto di vista, libero e anche, diciamo, comunque preceduto generalmente da una selezione, quindi tra i ragazzi meritevoli di poter iniziare a fare un percorso, che è quello per diventare architetto, architetta, ingegnere o ingegnera. E di fatto noi registriamo, io parlo per i dati che conosco, al Politecnico di Milano, ma anche i nostri, che il numero delle donne è decisamente superiore a quello degli uomini. Quindi direi che la questione dell'inclusività qui è a pieno regime. Peraltro, proprio durante il dibattito, un docente ha proprio detto quanto, diciamo, a livello progettuale le donne abbiano una capacità, una visione anche più complessa, e per certi aspetti delle problematiche che noi quotidianamente trattiamo. Quindi direi che l'università, se continua a fare il lavoro che sta facendo adesso, lavora nella giusta direzione. È anche vero che le donne che poi insegnano all'università, perché poi, come dire, l'esperienza universitaria come formazione, conoscenza, che poi è un trampolino di lancio per iniziare un altro percorso che quello professionale, che per certi versi è anche diverso, in realtà poi non sempre, diciamo, va a finire in quella direzione, ma a volte porta anche la scelta di diventare delle studiose. E vedo che ci si sta da questo punto di vista equiparando. E ci sono proprio delle scuole italiane dove la differenza questa non si sente, cioè dove la figura femminile è veramente molto presente e nel dibattito decisamente incisiva. Nella mia mente ho sempre pensato che... cioè non avevo neanche in mente dell'esistenza di un possibile pregiudizio. Quindi non è che ho fatto finta di nulla perché è maschile, ma ho fatto finta di nulla perché ho sempre pensato, nella mia natura, che fosse maschile e femminile, a prescindere. E tuttora lo penso, perché infatti non cambio il mio nome, lo tengo architetto, non scelgo architetta, ed è voluto. Poi a volte me lo cambia, in alcune circostanze, non dico nulla, perché sono una persona mite. Però in realtà mi voglio far chiamare architetto, perché è questo che ho sempre pensato. E credo che sia anche una frase particolare, perché in realtà però porta dentro un tema che noi ci trasciniamo da tanto tempo, che è quello dell'essere riconosciute, non solo nella storia e negli studi, ma riconosciute anche in cantiere. Sentivamo prima il coordinatore degli ingegneri della regione Emilia-Romagna, che diceva, io porto le mie socie in cantiere e le chiamano signora, a me ingegnere. Beh, ti posso dire, da mia esperienza, da un committente, anche privilegiato, venivo chiamata gioia, quindi neanche signora. Ed era motivo di profonda sofferenza, perché si riconosceva da una parte una capacità, perché altrimenti non sarebbe stata scelta come progettista, ma dall'altra parte c'era una forma di mortificazione che tu interiormente senti e di cui non puoi fare finta di niente. Quindi, diciamo così, in maniera retroattiva ho ricapito la frase di Gaia Aulenti e forse in parte l'ho fatta un po' anche mia. Ed è un pregiudizio che credo che sarà difficile, non impossibile, ma comunque su cui bisogna molto lavorare.